Musica Vi presento gli ospiti di questa puntata, Corrado Callegari di Prima il Veneto. Buonasera Callegari, ben tornato. Vediamo un'altra vicenda giudiziaria e poi andiamo da Corrado Callegari, che riguarda Cesare Battisti che ha ucciso un macellaio a Sabadina, Santa Maria di Sala e che adesso in base alla riforma Cartabia e alla cosiddetta giustizia riparativa vorrebbe rimediare vedendo i parenti della vittima. Callegari, questo è un caso che fa scuola in qualche modo. Non è neanche l'unico, quello che manca nel nostro paese è la certezza della pena. Quando uno, prendiamo il caso purtroppo di Turetta, è re o confesso di un omicidio, un omicidio poi commesso in una certa maniera, non può avere né pene né sconti. Lui deve essere condannato, a mio avviso, all'ergastro. Se poi fra 30, 35, 40 anni magari possono cambiare delle cose nella persona allora si può rivedere. Ma non si può iniziare un processo già partendo dal fatto che ci possono essere delle condizioni che possono ridurre la pena. Ovviamente il nostro è un paese garantista, però in casi eclatanti come questo, come quello che è stato citato di Cesare Battisti, perché non è stato detto e comunque si sa che Cesare Battisti ha passato 15-20 anni come clandestino all'estero, protetto dalle leggi in Francia e in Sud America. Quindi di fatto non ha neanche scontato tutta la pena. E dopo ci sono dei fatti anche del recente passato nostro. Prendiamo gli omicidi del Circeo che hanno fatto da poco anche la serie televisiva le scorse settimane. Uno dei tre è libero dal 2009. Cioè di questo ci dimentichiamo. Io diciamo è stato fortunato che la ragazza, la donatella, quella che era sopravvissuta, era morta prima, perché se no io posso immaginare che ha vissuto, questa ragazza che ha vissuto tutta la vita con questa cosa orribile dentro la mente, vedere che anche questo qui nel 2009 usciva sarebbe stata una cosa indecente. E la seconda cosa invece che Zaia, prima il Presidente diceva, sì bisogna che le donne segnali, però è anche vero di contro che molte donne segnalano, viene messo il braccialetto elettronico, viene dato l'imposizione di non frequentarla, dopo questo qua si presenta, gli bucchia un secchio di acido sul viso oppure gli spara. Cioè è anche su questo che bisogna intervenire. Cioè non solo nel caso purtroppo, come quello di Giulia a Valle, che praticamente l'omicidio è già venuto, ma bisogna anche cercare di prevenire perlomeno dove i segnali ci sono, perché quando delle donne vengono malmenate, vengono violentate, vengono pestate dai propri compagni, dai mariti, da quelli che lasciano, non è possibile che questi siano in grado, a distanza di tempo, di poterla riavvicinare ancora. Cioè è anche su questo che la nostra legislazione deve in qualche maniera intervenire. Proprio a garanzia delle donne che denunciano, perché è inutile dire denunciate, se dopo non vengono protette, cioè la cosa non serve. Sentiamo Callegari, vediamo un altro titolo, uccise due rapinatori, 17 anni a gioiegliere, il PM difesa, nei video abbiamo visto un'esecuzione. Callegari, prego. Allora, io volevo aggiungere che questo gioiegliere, come era stato detto in un passaggio, era stato soggetto a un'altra rapina precedente. Ma in questa rapina gli avevano spaccato la faccia e rotto le costole. Cioè non è che avesse subito una rapina, una rapina leggera. È ovvio che quando gli entra dentro della gente così armata, che legano la moglie, che fanno quello che fanno, poi questi sono scappati fuori con la refurtiva, lui li ha corso dietro, non solo perché li vogliava sparare, ma perché questi erano andati via con il balloppo. Io ritengo che quando un rapinatore va a rapinare deve sapere che ha il rischio di impresa, cioè che può rilasciarci le pene. Non come in questo processo qua, dove adesso sembra che vogliono anche i soldi di risarcimento per le famiglie, 468 mila euro. Come era avvenuto anche per il caso di Onichini, quando all'inizio all'albanese, l'albanese aveva richiesto, mi pare, o 30 o 300 mila, cioè stiamo alla follia, cioè stiamo alla follia qui. Viene tutelato il rapinatore e non il rapinato. Questa è la situazione. Poi gli hanno messo anche l'aggravante perché lui il porto d'armi ce l'aveva solamente per tenerla addosso dentro in gioielleria o in casa, non in strada. Ma adesso, mettiamoci in questa situazione qua, uno cosa fa? Ragiona a mente fredda, no, non posso uscire fuori dal negozio perché non ho l'autorizzazione della pistola. Io vorrei vedere se questi giudici, come nel caso di Onichini, si trovano in casa tre banditi, se stanno lì con la mente fredda, se gli sparo, non gli sparo, cosa faccio, prendo la pistola. Cioè bisogna rendersi conto di queste cose qua e quindi per me dare quella situazione era diversa. Tre anni, tre anni addirittura di più vuol dire che c'è qualcuno che cerca visibilità, che cerca di fare un qualcosa per creare clamore intorno a questa inchiesta. Passiamo alla politica e a quello che è un attacco di Forza Italia alla Lega in Veneto. Caligari, tu sei direttore che io sono stato per tanti anni in Lega, sono stato quasi vent'anni e sono andato via fatalità in contrapposizione alla linea politica di Tosi, quello che adesso Tajani sta lanciando, perché nella realtà io vedevo Tosi come l'altra faccia della medaglia di Salvini, cioè entrambe figure che non avevano niente a che fare con la Lega per cui io ero entrato dentro. Adesso vedere la contrapposizione di Tosi con Salvini mi fa un attimo un po' sorridere. È indubbio che la svolta che sta dando Salvini al suo movimento perché non ha niente a che fare con la Lega che si chiama Lega Salvini Premier che statutariamente è un altro movimento e che quindi lui sta cercando di scavalcare la Meloni a destra perché questa è la mossa che lui sta cercando di fare politicamente solo che con questo sistema andrà a perdere ancora altre fette di elettorato che probabilmente come dice giustamente Vestrine andrà a favorire altre fette non sicuramente la Lega ma andranno a ingrossare probabilmente ancora le file della Meloni con fratelli d'Italia per quanto riguarda la sponsorizzazione ripeto di Tajani per Tosi io la vedo una iattura se Tosi dovesse diventare il presidente del Veneto mi auguro che questo sia una remota speranza che non avvenga di